È un conubio che sta andando avanti, ma vorrei dire una cosa, al di là della semplice e pura sponsorizzazione, che loro stanno insieme a noi da diversi anni, la cosa più importante, la più piacevole, la più bella è che esiste un rapporto veramente di fiducia tra le due parti con le persone, Paolo, Massimo, dove sono sempre disposti, sempre disponibili, sanno intervenire nel momento giusto, nel momento di bisogno, insomma, quindi è un rapporto veramente importante che la VLH1BC ci apprescinde, ripeto, da una, come dire, non vorrei dire banale, ma da un rapporto che poi magari dietro appunto è molto più complesso e importante di quello che può sembrare. Seminare e continuare in quello che facciamo nelle nostre attività, quindi la sponsorizzazione deriva da tempi molto indietro, quindi noi ogni anno abbiamo rinnovato e negli ultimi due anni abbiamo incrementato notevolmente la sponsorizzazione, anche se non facciamo più parte del consorzio per una scelta fatta a livello strategico negli anni passati, però comunque siamo sempre stati presenti e a maggior ragione confermiamo anche quest'anno la sponsorizzazione, come abbiamo fatto per tante altre iniziative. La banca sta continuando a sostenere tutte le attività, soprattutto un occhio di riguardo nel settore giovanile, però non si può dimenticare la prima squadra che è il basket, il basket che merita, in questo particolare momento, forse anche un po' di brio e un po' di spensieratezza e ritornare al palazzo veramente ci ha fatto un grande piacere rivedere, anche se ancora veramente siamo al 50% o poco più o poco meno, però la gente deve ricominciare a vivere in maniera un pochino più serena e questo forse è quel Natale che arriva e il prossimo anno, i vaccini e tutte le cose che stanno facendo anche a livello governativo sicuramente avremo un 2022 diverso rispetto agli ultimi due anni che ci ha visto impegnati a fronteggiare una situazione che si dice straordinaria e poco a definirla straordinaria.